da Pasco Torelli, arriva a Narni, se Narni devi fa, Narni e Amelia passano per Capitone e poi guardè, arriva, vedi qual è la strada di voi, grazie, grazie, ciao, capirai, divertete a posto, ciao ragazzi, ciao, si è acceso, fate un saluto, ciao ragazzi, ciao ragazzi ciao 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 io sono ciao ciao Ferronciglione, Capranica, Sudri e dopodiché facendo la Sudrina poi prenderò la strada statale che mi porterà a Fiano Romano e poi a Passo Polesio. Con questo chiudo qui, ci vediamo alla prossima, ciao!